Siamo partiti decisamente male, abbiamo concesso i primi 15-20 minuti all'avversario Dopodiché è stata dura riuscire a recuperare, eravamo messi abbastanza male Poi il secondo tempo abbiamo concesso ancora i primi minuti e alla fine è uscito un risultato abbastanza pesante purtroppo L'ultima volta che vi abbiamo visto venivate da una grande vittoria, cosa è successo oggi? Cosa è venuto a mancare? Sicuramente anche alcune assenze che sono pesate secondo me Poi comunque questa sconfitta non ci deve demoralizzare, dobbiamo partire dagli allenamenti Comunque dobbiamo migliorare in alcuni aspetti del possesso palla e da lì sarà tutto più facile Grazie per la disponibilità ragazzi e in bocca al lupo per le prossime Grazie a voi Grazie